Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video molto diverso dal solito, questa la dico spesso, però veramente è una cosa che non ho mai fatto e voglio vedere che cosa ne pensate e fatemelo sapere nei commenti appena scoprirete che cosa ho detto e soprattutto dopo aver messo il subscribe, il like, tutte queste cose che piacciono tanto agli algoritmi di YouTube in modo che diventiamo super super famosi in questo canale di bodybuilding. Allora, parliamo di stacchi e quello di cui voglio parlare adesso è uno schema che utilizzo per gli stacchi. Quindi vi faccio vedere praticamente uno schema che potete prendere, inserire la vostra programmazione, meso ciclo, sperimentarlo e farmi sapere che cosa ne pensate e vi faccio sapere quelle che sono le logiche di utilizzo per darvi uno spunto sostanzialmente. Quindi non farò questo video a con questo schema aumentata di massimale, a con questo schema di qua e di là. Usate la testa, cercate di capire qual è la logica che c'è dietro, inseritela da questo punto di vista nel vostro meso ciclo di lavoro. Potete inserirla anche in altri schemi, non necessariamente negli stacchi, però io la sto utilizzando per gli stacchi, stacchi a gambe semitesi e mi sto trovando molto molto bene. Quindi spero di lasciarvi uno spunto interessante. Allora, stacchi. Vado a inserire io personalmente questo esercizio come secondo o terzo esercizio dopo un esercizio di leccarl per scaldare bene i femorali e preattivarli o addirittura due esercizi di leccarl nel caso in cui voglia depotenziare la mia performance sugli stacchi per un semplice discorso di riduzione e fortunio. Quindi vado a massacrare per bene i femorali così comunque li sento belli attivi, partecipano al lavoro e sugli stacchi perdo qualche ripetizione, perdo un po' di chili, in cui vado a migliorare logicamente nel corso della settimana, però perdo un pochetto, quindi do lo stesso stimolo riducendo un filo il rischio e infortuni. Quindi queste sono due alternative, però in genere una preattivazione è molto molto utile. Poi io spesso faccio un primo lavoro di leccarle e poi una serie di adduttori per scaldare gli adduttori e attivarli al meglio. Quindi anche in questo caso c'è una riduzione di rischio e infortuni, non mi compromette la performance sugli stacchi perché non impatta sugli stacchi, però sono poi molto molto più stabile, questa è una cosa che noto quando vado a fare stacchi e nel frattempo mentre faccio adduttori i femorali recuperano un minimo, quindi anche se sono affaticati riesco poi ad attivarli al meglio ma non vanno a compromettere quello che è il carico che utilizzerò negli stacchi. Quindi queste sono tre modalità di inserimento che potete assolutamente sfruttare e sperimentare. Nel mio caso dipende dalla fase specifica, in questo momento specifico faccio leccarle, adduttori, stacchi. Ok? Stacchi a gambe simitesi, ho già parlato delle differenti tipologie di stacchi, quindi focus femorali e glutei. Ok, allora, in primis il warm-up. Warm-up in cui faccio una prima serie a bilanciare vuoto da 10 ripetizioni, metto 20 e 20, faccio 8 ripetizioni, metto altre 40 e 40, quindi 100 totali e faccio 6 ripetizioni e da là salgo di 10 in 10 per parte, ogni tanto aggiungo soltanto 5 per parte. Iniziamo a scalare le ripetizioni, quindi faccio 6, poi 5, poi 4, poi faccio un paio di serie sulle triple, poi faccio 2 ripetizioni, quindi lavoro sulle doppie. Quando arrivo al carico target, che è il mio primo loading set, quindi la prima serie allenante, faccio soltanto una singola, che è circa un 8-10RM nel mio caso, ok? Quindi il mio primo loading set di questo schema è un 8-10RM, per cui salgo gradualmente, lavorando sempre su poche ripetizioni per non perdere performance, per non affaticarmi, ma sentire gradualmente il carico, a un certo punto arriverò al mio carico, che è l'8-10RM, su questa variante di stacchi in cui ho delle stop reps, quindi eccentrica lenta, stoppo un secondo in basso e riparto, di nuovo, facendo un recap, perché tanto me lo chiederete, me lo chiederete spesso, 10 ripetizioni a bilanciare vuoto, 8 ripetizioni con 60 kg totali, 6 ripetizioni con 100 kg, aggiungo 10-10, quindi sarebbero 120 kg, vado sulle 5 ripetizioni, 140 kg faccio 4 ripetizioni, 160 kg faccio 3 ripetizioni, faccio una doppia con 170 e faccio una singola con 180, ok? Questo è lo schema di warm-up. Il recupero inizia ad essere un minuto all'inizio, poi pian piano va verso i due minuti, prima di fare la singola recupero due minuti, dopo aver fatto la singola recupero 3-5 minuti prima di partire col primo loading set. Fino a qua abbiamo fatto warm-up, adesso partiamo con il prima serie allenante che sarà un loading set, semplicemente prendo questi 180 kg e ci sparo tutto quello che ho, cerco di chiudere 8-10 ripetizioni, se chiudo 8 o 9 o 10 ripetizioni, la prossima settimana mantengo sempre 180 kg, perché è quello il mio 8-10 RM ancora, e il mio scopo sarà quello di chiudere una ripetizione in più rispetto alla precedente, quindi sempre 180, punto a chiuderne una in più. Se faccio 11 ripetizioni, quindi sono fuori dal mio 8-10 RM, allora la volta successiva aumenterò il carico e passerò a 185 kg, puntando di nuovo a dare il tutto per tutto e puntando spiegabilmente a fare sempre 11 ripetizioni, perché vorrebbe dire passare poi a 190, ma se ne chiudo per esempio con 185-10, allora rimango di nuovo con 185 con calma e proverò a uscire dal rep range, proverò a chiuderne 11. Quindi lo schema di progressione sul mio loading set è molto semplice, 8-10 RM, appena esco dal rep range, quindi faccio più ripetizioni, faccio più di 10, quindi 11 o più ripetizioni, la volta successiva aumenterò il carico di un filo, come detto, di 5 kg, quindi 2,5 per parte, veramente poco. Con calma e mi godo questa progressione nel corso di settimane. E per tutte le settimane che ho avanti, io punto ogni volta a rosicchiare qualcosa. Se non ci riesco, non è un problema, pareggio, faccio una ripetizione in meno, potrebbe essere andato storto qualcosa. Logicamente c'è qualcosa che si cronicizza, c'è qualcosa che non va nel recupero e devo un attimo rivedere. Però se rimango anche 2-3 settimane in cui non riesco a superare questo loading set, va bene, continuo ad insistere. Sto comunque dando stimoli ipertrofici finché do il 110%. Forma ed esecuzione sempre in primis. A questo punto scarico, recupero e diminuisco il carico di circa un 20%. Ok? Circa. Da questi 180 kg, diciamo che passerò a 150 kg. Ok? Quindi un poco meno del 20%. 150 kg, devo fare il mio secondo set, che sarà un back-off. Ora, la prima settimana è un back-off molto semplice. Di nuovo, sparo tutto quanto a cedimento e vedo quante mie ripetizioni mi escono. Semplice. Nessuna tecnica di intensità, niente di niente. Perché voglio prendere confidenza con questo carico e vedere quante ripetizioni riesco a totalizzare. Cercando di stare nel range tra le 12 e le 15 ripetizioni orientativamente. Però di nuovo, sparo tutto quel che ho. Semplice. Dalla seconda settimana, inizio ad applicare il mio schema solo sul back-off. Quindi il loading set continuo a cercare di progredire gradualmente, indipendentemente. Ma anche sul mio back-off voglio progredire. Ma voglio progredire con uno schema. Uno schema che mi permette di aumentare quello che è il mio tonnellaggio totale su questo secondo set. Ossia, come detto, con 150 kg chiuderò circa 12-15 ripetizioni. Qualcosa del genere. Dipende anche dalle mie caratteristiche percentuali di fibre, capacità su diversi sistemi energetici. Quindi è anche soggettivo. Ci sono persone che se scendi un filo di carico sparano un sacco di ripetizioni in più. Persone che se scendi un filo non sparano tanto di più. Considerando anche che è un back-off. Però ricordate, riposate tanto tra il loading set e la seconda serie. Ok? Non fate passare un minuto, due minuti. Riposatevi anche cinque minuti perché avete fatto appena una serie loading set a cedimento sugli stacchi. Quindi avete bisogno di tempo. Non lasciate le cose al caso. Perfetto. Seconda settimana. Lo schema è molto semplice. Cinque cluster da cinque. Quindi cinque per cinque. Con sessanta secondi di recupero. Molti di voi potrebbero pensare che sono cinque serie da cinque. Io lo considero un cluster perché per me con quel carico 60 secondi il recupero è troppo breve per considerarla un'altra serie allenante. Di questo abbiamo già parlato. Le serie, le ripetizioni che andrò a fare saranno quasi solo effective reps dopo il primo cluster. Ok? Quindi non avrò quella componente di ripetizioni di accumulo di fatica e poi effective reps che mi caratterizzano una serie ex novo. Ma in realtà è un accumulo di effective reps e quindi è più un cluster set. La differenza è semplicemente di nomenclatura ragazzi. Non cambia niente. Volete chiamarle serie? Sono cinque serie da cinque con sessanta secondi di recupero. Per me è un cluster set. Quindi per me è un'unica serie. E questa è la differenza tra molti di voi che dicono magari mi alleno ad alto volume. Io dico mi alleno a basso volume. No, in realtà mi alleno a un volume moderato. Però non mi alleno ad alto volume e magari stiamo facendo la stessa cosa. Ok? Comunque dal mio punto di vista in questo contesto è un cluster set. Perché il recupero è un recupero molto incompleto. Sessanta secondi su degli stacchi. Ok? Quindi il mio scopo è di riuscire a completare questi cinque cluster da cinque con sessanta secondi di recupero. Sono venticinque ripetizioni totali, quindi un buon tonnellaggio, di cui una buona percentuale sono effective reps perché accumulerò tantissima, tantissima fatica. Un solo failure point che sarà il failure point finale. Ok? Perché logicamente se raggiungo il failure point prima acceto. Se io chiudo questo schema, quindi se io riesco alla fine a fare cinque ripetizioni, l'ultima in realtà, l'ultimo cluster è un max. Quindi se me ne escono sei, sette, le faccio. Voglio comunque un failure point. Se chiudo lo schema, la prossima volta aumento il carico. Quindi il gioco è sempre lo stesso. Da 150 passo a 155, 160 in base allo scarto. Se ne ho fatte l'ultimo sette ripetizioni, vado a 160. Se ne ho fatte cinque precise, provo 155. E a questo punto, provo la settimana dopo a richiudere lo schema. Arriverò al punto in cui non lo chiudo. Quindi mi usciranno cinque, 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 e qua tocco il cedimento, quattro. Non l'ho chiuso. Ho due failure point qua. E ho un tonnellaggio inferiore. Sono ventiquattro totali. La volta dopo mantengo lo stesso carico, ma provo a chiuderlo. Quindi provo a fare cinque da cinque. Aumenterò il tonnellaggio e ridurrò il failure point. Quindi c'è un aumento di volume e una riduzione di intensità. E vado avanti così. Ci saranno settimane in cui l'intensità è più alta. Quindi ho più failure point, ho più effective reps, ma il volume è più basso perché il tonnellaggio sarà più basso. Ma pian piano mi adatto, il volume aumenta, ma l'intensità diminuisce. E c'è in questo senso un'autoregolazione del nostro corpo che si indirizza dove più riesce a esprimere, a migliorare. Quindi se c'è un margine di aumento del volume, vedrete che il volume aumenta, l'intensità diminuisce. Se c'è un aumento a margine dell'intensità, vedete che aumentando il carico l'intensità diminuisce. E l'intensità aumenta, ma il volume diminuisce di contro. E quindi c'è un equilibrio perfetto che tende a rendere questi schemi degli schemi molto longevi. In cui tendete a migliorare sempre un filino nel tempo. Proprio perché il corpo ha sempre un qualcosa, il muscolo ha sempre un qualcosa dove andare. E ci gira sulla torta, nel frattempo voi state progredendo anche sul loading set. Quindi il vostro massimale, il vostro 8-10 RM, migliora gradualmente. E l'idea, alla fine del meso ciclo, qual è? Quella che voi, con i 180 kg dell'inizio del meso ciclo, ci fate 5x5. Magari non all'inizio del meso ciclo. Magari dovete fare dei periodi di break, ma alla fine dell'anno, magari del macro ciclo di lavoro, riuscite a fare questo. Quindi col vostro 8-10 RM arrivate a fare 25 ripetizioni. Certo, in cluster, però arrivate a un tonnellaggio veramente, veramente impressivo. Quindi capite come questi schemi possono essere inseriti e come bisogna avere sempre una visione di quello che succede nel macro ciclo. dove l'aumento di forza è un aumento di forza relativo a determinati RM. Quindi non è un aumento di forza del massimale come nel PL. È un aumento di forza che ottengo mettendo la sesta andando. Quindi 100%, cedimento, intensità, quello voglio ottenere. Perché è quello lo stimolo sul cui il mio muscolo deve migliorare la forza. È sotto quel tipo di pressione che il mio muscolo deve migliorare, adattarsi e diventare più forte. È quello quello che voglio. E da là devo avere la visione di lungo periodo di quello che succede. Che è un aumento di forza graduale, lento. In cui all'interno i veri driver ipertrofici sono questi continui raggiungimenti di failure point, di effective reps che fanno andare in tinti il muscolo dal punto di vista di tensione meccanica. Quindi attivano in maniera massiccia quelli che sono i meccanismi di adattamento ipertrofici con questa richiesta di performance lunga, di aumento di performance che poi è quello che giustifica più masse muscolari nel tempo. Quindi questi continui raggiungimenti di failure point forzano il muscolo ad adattarsi e questo adattamento muscolare permette a sua volta di riuscire nel tempo a migliorare i nostri carichi. Quindi in questo senso il fatto di arrivare a fare 180 kg in 5x5 non è tanto ok questo mi ha fatto migliorare ma sono diventato più grosso e quindi il mio corpo è in grado di far questo se volete vederlo a questo punto di vista. Questi sono più o meno gli schemi come dovrebbero essere studiati, adattati e messi nella pratica in una scheda di bodybuilding in una scheda da un punto di vista ipertrofico in una visione di lungo periodo, in una visione di un macro ciclo di lavoro. Spero che lo spunto possa essere interessante e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa tipologia di video posso farne sicuramente tanti perché di schemi ne utilizzo e ne faccio utilizzare veramente tantissimi i ragazzi che seguo lo sanno quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate qualsiasi domanda logicamente ben accetta sarò ben lieto di rispondere noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video vi faccio un'ultima domanda si vede che ho finito la gara e che sono in rebound perché c'è un sorrisone che sto a mille ragazzi al prossimo video ciao a tutti